Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati con mia madre Ciao Allora, tutte le botte, le pizze che non mi hai dato da piccolo, me le darai oggi Yeah Tutti contenti quando me ne ho nominare, tutti anche papà quando ha dovuto fare il video, contentissimo Alla grande, quest'oggi ad ogni brawler leggendario che troverò, mi tirerà praticamente uno schiaffo Forte Forte Nooo Forte, ma la cosa importante di questo video mamma è che uscirà il primo novembre Oh E che cos'è il primo novembre? Il mio compleanno Quindi quanti mi piace chiediamo per questo video? Tanti Ragà, 20.000 like e gli auguri sotto nei commenti in questo video Grazie Per forza ragazzuoli, mi raccomando Detto questo inizierei subito, penso abbiate capito come funziona il video Start immediatamente, giochiamo con un brawler leggendario che è corvo anche se in questa mappa non c'entra nulla Già laggo mamma Che è laggo? Laggo Praticamente il gioco mi va a scatti Guarda, guarda Perché non c'è? La connessione Fa schifo la connessione Sì, fa abbastanza schifo, dai che se forse riusciamo a giocare questo colt gli diamo fastidio Ok, allora Ovviamente, ragazzi, vale anche quando i brawler muoiono Quindi, per ente, se in Alta Sinstra vediamo la notifica di un brawler leggendario che muore o uccide Ovviamente è uno schiaffo Però per adesso abbiamo laggato, quindi non so se c'è stata qualche notifica Beh, dopo andiamo a vedere nel registro Dopo andiamo a vedere nel registro delle battaglie Te lo dico io quando vedi di tirare gli schiaffi Va bene Va bene, ti fidi? Sì, sì Ti fidi, va bene, ok Va bene Tu ti fidi? E io mi fido di te Allora, ragazzi, dobbiamo stare attenti perché pulula di Shelly questa mappa Vabbè, mamma, tu non stai capendo niente, no? Ma in realtà era carino dire, magari era la campionessa mondiale di brawler Io laggando sto vincendo, forse Riesco forse a far qualcosa Attenzione a questa Shelly Niente, non sono riuscito ad ucciderla Guarda, guarda, guarda quanto si è salvata, maledetta Comunque mi sa che non abbiamo beccato nessun leggendario in questa prima partita Forse dobbiamo cambiare modalità in questa mappa Effettivamente non viene utilizzato quasi nessun brawler leggendario Non sono riuscito a scappare, siamo morti Schiaffo? No, 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 no Perché non abbiamo perso coppe Possiamo fare, è vero, mi hai fatto tenere un'idea Che se perdiamo coppe, razzi, droppiamo Schiaffo Va bene Va bene, va bene, va bene Però rimane comunque in massimo con i brawler leggendari Se effettivamente in questa sopravvivenza non ci sono brawler leggendari Potremmo provare magari in arraffagemme che c'è qualche Sandy Potrebbe esserci qualche Sandy Perché no Potrebbe esserci Allora, vediamo un attimo Lì c'è un Leon E con noi nessuno Mi ridi all'idea di uno schiaffo Era più forte che lei mi ha dato papà Era tutta preoccupata e mi avesse fatto male, ragazzi È carina, mamma, mi vuole far male È rimasto indenne fino adesso Lo roviniamo adesso, non lo spreco No, 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 tra l'altro mi ha ucciso il Leon, va bene Ok, tra l'altro ragazzi potremmo fare anche il video ogni morte, ogni sconfitta mi dirà uno schiaffo Mi piace farmi male Mi avete menato poco da piccolo Mi avete menato poco da piccolo Adesso voglio recuperare tutto insieme Non si mene i bimbi Non si mene i bimbi, ragazzi Si educano Si educano Perché si educano Ci si parla, parla Esatto Ma non si picchiano Ma non si picchiano Allora Però Se serve No, più che altro i miei brawler dovrebbero iniziare a picchiare i loro Perché non stanno facendo niente i miei compagni Cioè stiamo pushando noi ogni tanto quando riusciamo ma Devo menare i compagni? Eh, devi menare i compagni Gli schiaffi vanno tirati a sti compagni che non riescono a fare i compagni Eh E niente, ragazzi Mi sa che ci hanno completamente stracciato E quindi se andiamo a perdere, raga Eh, ci andiamo a meritare questo schiaffo, purtroppo Attenzione Ah no, quella Anita non aveva power up Eh, però questa Jessie Attenzione a questa Jessie Dai che forse Sì, ok Allora, abbiamo fatto il conto alla rovescia L'abbiamo ricominciato Però niente, ragazzi Sono riusciti comunque a scappare Eh, niente, mamma Pensavo di aver recuperato la partita Ma non ci sono riuscito Mi sa che dovrei tirarmi un altro schiaffo No Eh sì Poi in più ci si mette anche il lag Che non riusciamo a giocare Eh, un problema Ah, vedi Il Leon avevo indovinato che era qui Raga, l'avevo trovato Niente, mamma Vai Va bene Va bene Papà solo uno Me ne dovette tirare Già due io Tu già due Perché è un video diverso Lui avevamo fatto un'altra cosa Quindi erano un po' più rari lì Gli schiaffi Allora Va bene Qui ne abbiamo trovato uno Vediamo se in footbrawl Troviamo qualche brawler leggendario in più Cambiamo anche noi Il brawler Mettiamo Anita Guarda che carina È uno shiba questo cane Che bello Nita shiba Ha visto che è carina? Lei prende una scolaretta giapponese Vestita da cane E quando c'ha un potere speciale Che richiama il suo cane Quello lento Lo sai con Serena come lo chiamiamo? Eh Il cano orso Ah si Perché è un cane a forma di orso Attenzione Qui non No quelli sono gli Akita Akita Sì raga abbiamo Noi abbiamo Mia cugina che Che fa precisamente? L'elevatrice Ah l'elevatrice proprio Ah giusto è vero Fa l'elevatrice In particolare Degli Akita Ciba inu Mi pare Questo come si chiama? Ciba Può essere? Ci sono diversi Non lo so Ma di solito sei tu Quell'esperta di cani Io non ci capisco molto Devo andare A rileggere Esatto Allora Intanto non abbiamo trovato Brawler leggendari Quindi in questa partita L'unico modo che tu hai Per tirarmi uno schiaffo È ovviamente La mia sconfitta Ma no dai Eh ci proviamo Ci proviamo mamma Non sconfiggetelo Guarda guarda il canorso Non socombere Guarda il canorso Che stava tirando le pizze Ma è il nostro alleato Eh certo lo chiamo io Dai canorso Eh niente non ce l'ha fatta A bloccare l'avversario No abbiamo preso gol Però ancora no Ancora no Gol? Eh si perché si fa gol In questa modalità Si chiama proprio Foot Brawler la modalità Si gioca a calcio Bisogna segnare Allora Richiamiamo il canorso Dai che questa volta Fa qualcosa Vero? Niente Mi hanno ucciso mamma Mi sa che vanno a fare Il secondo gol E quindi abbiamo perso Abbiamo perso Terzo schiaffo Ci sta prendendo gusto Sì Ci sta prendendo gusto A posto Perfetto Ma lo vede il canorso Eccolo qua Aspetta Eccolo Poi c'è così Poi c'è questo Che è un orso Proprio Perché ci sono Le varie skin C'è il panda Ok E poi c'è questo qui Che è vestito da Natale Guarda c'è il pupazzone Di Natale Ovviamente anche questo L'ho pagato E c'è Poi faremo il video Appunto Soprattutto essendo Non credo ci siano Leggendari E io direi Facciamo una cosa però Giochiamo a coppe elevate Sto giocando con il brawler Che ha più coppe Di tutti Di quelli che ho io Guarda che bello Arancione ovviamente L'ho selezionato Il mio colore preferito È una skin quella Lui in realtà è tipo Un uccello Un'aquila leggendaria È un'aquila Esatto E non ci sono Leggendari ragazzi Le partite con meno Leggendari nella storia Il lag è sempre presente Se in questo video Avessi fatto Una pizza Ogni colpo di lag Probabilmente Mi avresti ammazzato Di botte Sì sì Ero gonfio Ero gonfio Decisamente Allora Abbiamo dei nemici Che romperanno parecchio Le scatole Se i miei compagni Non mi daranno una mano Perché raga Bull E loro hanno anche Un lanciatore Che è Bombardino Che No bueno No bueno Mi sa che a queste coppe Ragazzi Meglio non giocare In singolo Nelle partite In cui si gioca a squadra Perché potrebbe Essere problematico Ma cosa Stanno facendo i miei compagni Stanno morendo E basta Ma no Eh purtroppo Sì mamma Ragazzi Sarà un'altra sconfitta Svegnatevi Un altro schiaffo Sì Un altro schiaffo Altra sconfitta Niente ragazzi Cioè ci hanno Ci hanno spaccato In due Hanno già vinto Praticamente Hanno già vinto No Sì Praticamente sì Quanto è durata La partita 30 secondi Pochissimo 30 secondi è durata Povero l'aquilotto Ha perso 8 coppe No questa Era finta Ecco ok L'ha tirato troppo piano Ragazzi L'ha tirato troppo piano E niente L'abbiamo provata un po' In tutte le modalità Abbiamo trovato solamente Un brawler leggendario Che era Leon Nella modalità appunto In arraffa gemme Sinceramente in sopravvivenza Qualche altro brawler leggendario Me lo sarei aspettato Anche perché io ho messo Corvo Magari leggendario Attira altri leggendari Invece no E prossimamente Prossimamente potremmo fare il video Appunto in cui invece mia madre Va a reagire A quanto ho speso Sul brawler Che lì poi gli schiaffi Quelli veri Si moltiplicano Esatto Quelli veri proprio Proprio perché Ripeto Ho preso al mente Poche botte da piccolo Che adesso le devo recuperare tutte Quindi sto facendo Di tutto Le sto cercando Le sto cercando Quindi ragazzi Se mi volete picchiare Vi do l'indirizzo Venite E mi faccio picchiare Proprio di brutto Le botte Ma no Le picchio io Dici di spogli tu Comunque raga Mi raccomando Gli auguri a mia madre Sotto nei commenti E i 20.000 mi piace Mi raccomando ragazzuoli Conto su di voi Buon halloween Anche se in realtà Era ieri sera Però comunque oggi Proprio il giorno dei morti Certo Insomma ecco E niente Ti sei divertito A tirarmi gli schiaffi Si Si tanto Un sacco Perfetto Prossimamente Nuovi schiaffi Da parte di Di mia madre E niente ragazzi Per noi è tutto Ci troviamo domani Con un prossimo Qui sul mio canale Sul secondo canale Se volete Vi lascio sempre il link Nella descrizione Oppure in live Sempre questi giorni E Ah e io sono a Lucca Comics Se vi interessa In questi giorni Ci siete anche voi Tra l'altro Si Anche i miei Ci sono venerdì e sabato Vabbè E niente ragazzuoli Ciao Ciao Ciao